Io penso di no e mi auguro di no, anche perché abbiamo lavorato con grande intensità e con grande concentrazione come abbiamo sempre fatto fino a questo momento e sicuramente incontriamo un avversario molto molto difficile, questa è una partita difficilissima, è una squadra forte, il Cerignola, quindi sarebbe un errore grave se i miei giocatori non entrassero in campo concentrati. Sì, domani c'è il Cerignola, ti ho risposto la domanda prima, domani c'è il Cerignola, il nostro focus è sul Cerignola, squadra forte, squadra arrabbiata perché viene da una sconfitta immeritata sicuramente nella partita di Nardò che hanno avuto diverse occasioni anche per fargli male e non ci sono riusciti, è una squadra che non merita di stare in quelle zone della classifica, ha dei giocatori importanti, l'allenatore è bravo, è un allenatore con delle idee, è una squadra aggressiva, è una squadra viva e quindi verranno qua per cambiare il trend e noi dobbiamo cercare di fare di tutto per non farglielo cambiare. In grandi linee avevo delle idee stamani, poi vedendo l'allenamento di stamani mattina ho rivisto qualcosa, ho cambiato qualche cosa, i miei giocatori lo devono sapere, chi vuole la maglia lo deve dimostrare ogni giorno, lo dico sempre, domani non esiste, oggi è la finale di Champions, la rifinitura è la finale di Champions League e quindi chi mi dimostra dal martedì al sabato mattina che vuole la maglia, io la maglia gliela do, non ho preclusioni.